Brindisi all'interno del direttivo nazionale del sindacato di polizia SIAP con la presenza del segretario generale provinciale Cosimo Sorino, un riconoscimento al lavoro svolto nel territorio brindisino da parte del segretario generale nazionale Giuseppe Tiani. La direzione nazionale del sindacato di polizia è stata anche l'occasione per affrontare importanti temi a confronto con il governo come l'autonomia differenziata e la carenza di personale, una problematica particolarmente sentita nel territorio brindisino e spesso portata al centro dell'attenzione proprio dal segretario Sorino. Questo mio incarico è il frutto del lavoro dei colleghi di questa provincia ai quali va il mio ringraziamento e l'attenzione che la stessa segreteria nazionale ha per il territorio brindisino. Per quanto riguarda le tematiche abbiamo delle tematiche molto importanti che spero di potare a Roma nelle stanze dei bottoni perché abbiamo un organico sempre più ridotto al minimo con le specialità che sono ridotte all'osso, in particolare parlo di frontiera in questo particolare periodo di vacanze oppure di pulizia stradale per non dimenticare che la postale in questa provincia lavora con solo 5 unità. La questura proprio ieri ha fatto fronte ad uno sbarco di circa 400 immigrati pescati nel Mediterraneo, noi abbiamo una molteplice di servizi con persone sempre più anziane, sempre più sulla via della pensione e con un mancato turnover. Queste sono problematiche che noi dobbiamo affrontare nel più breve tempo possibile e portare sul tavolo del governo.